Venti da un modulo in modulo base e mantenendolo praticamente intatto a salvo alcune avverture e diciamo dilattandolo con anche queste suggestioni che avvengono un po' di quando arriva al CIE questa struttura che si dilatta e che diventa anche un grande rete, una cosa che caratterizza tutti i dispositivi. Anche in questo caso si vengono usate strutture prefabbricate per generare questo landmark la prima che poi diventa una zona per la nampicata, ovviamente è una struttura destinata alle attività sportive di presidio originariamente dove era destinato a Torino, invece penso che portare la prima tappa la prima tappa nelle zone terremotate. Vincenzo Manco, presidente di WISP, con le due parole. Quello più conosciuto, quello che organizza il Comitato Olimpico, rende lo popolare, cioè consentirlo a tutte le fasce sociali, fino a immaginare invece negli anni 90 quest'idea, proponendola anche nel dibattito pubblico del Paese e a livello europeo, quest'idea dello sport per tutti. Quella scelta di WISP cambia e modifica sostanzialmente l'approccio di un'organizzazione sportiva nei confronti della pratica sportiva, cioè non si guarda più alla popolarizzazione della pratica sportiva per tutte le fasce sociali, ma si sposta sostanzialmente all'approccio culturale, quindi l'idea di pratica sportiva, non più alla prestazione che la devono raggiungere tutti, la medaglietta, così come era quella prevista per lo sport, e il dare anche per lo sport degli operai, ma invece la persona al centro, che non necessariamente deve raggiungere una prestazione, una medaglietta, ma deve raggiungere un proprio bene a sale. A Cerignola ci sono due cooperative, pensate di terreni, ma anche di beni mobili, che sono strappate dalla prepotenza criminale, che rinascono come presidi di legalità, di democrazia, di supremazia dello Stato attraverso l'impegno di cooperative, di ragazzi che si uniscono in cooperative. Mentre lo fa, nell'agire quel rapporto, lo fa chiedendo chiaramente che cosa? Chiedendo democrazia, chiedendo giustizia, chiedendo partecipazione. L'idea di questo dispositivo è che il rapporto appunto con il tema delle periferie è legato sostanzialmente molto a questo, quindi un amistro che non guarda più semplicemente, esclusivamente ad un'organizzazione, all'impegno dell'intervista sportiva tradizionale, ormai da più di 30-40 anni ha già, diciamo, teorizzato e praticato, che è invece un corpo che deve conquistare gli spazi, quindi va soprattutto a conquistare nelle zone vane, dove la margine è associata e parte dalla impossibilità, dalla difficoltà di essere i propri conti del rapporto, quindi con il gioco, la parte sportiva, non necessariamente nella strutturata, anche se nel dispositivo, come giustamente indicato prima, bravo, avete visto canisteri, avete visto anche la possibilità di utilizzare una rete dove faremo appunto lo street walkway, ma tutto è appunto previsto l'animazione sportiva, parkour, arrampicata e tant'altro, è un'idea molto trasversale della pratica sportiva dove al centro c'è l'inclusione di cittadini, in questo caso non in categoria giuridica, ma di persone che intercettano, si partiva appunto con l'idea di Torino, Parkour, zona dello strippaggio delle ramiere, e di manipulizzare, diciamo, la catena di montaggio delle auto, delle macchine, della Fiat, ma abbiamo chiaramente dirottato come era giusto che fosse, quindi ci stiamo, diciamo, attivando, quindi anche nel rapporto con AIG, vedremo nelle zone terremotate, perché di recente abbiamo anche messo, diciamo, fatto una nostra direzione nazionale, faremo una serie di interventi che partiranno, perché abbiamo dovuto riunulare tutto dopo la seconda terribile scorsa che tutti conosciamo e che abbiamo qui. Il consumo di CO2, la possibilità di cose autoalimentate attraverso il pannello solare, l'isolamento e l'ergonomia di uno spazio ufficio e laboratorio che vorreste, tutto ciò, l'assunto di questo e quindi anche uno spazio per poter, appunto, fare socializzazione, non soltanto attività, ma attraverso l'animazione, provare con il quale evitare questa idea del corpo che finalmente si accorde uno spazio attraverso quello che socializza e costruisce cittadinanza, costruisce l'inclusione sociale. Il mobile, studiato da l'ISP, per diventare un presidio stabile per l'educazione alla convivenza e alla cittadinanza attiva nelle periferie urbane, attraverso il gioco, lo sport e i movimenti. L'USP è stato progettato dallo studio NOA nell'ambito del padiglione Italia Taking Care in occasione del undicesimo biennale di architettura di Venezia.